bricchini e bricchini molto alla prossima prossima di fortnite ciao valerio ciao valerio sei un po scuro in in pelle come mai c'è così scuro ragazzotti allora commettino condivisione mi piace con il giocatore brics nel negozio oggi andiamo a fare la canna da pesca challenger per insomma gioia di valerio ragazzi tutte le armi vanno pescate per forza le cose cure e non so vabbè la fioccina ovviamente il rampino quello che possiamo trovare anche nelle casse non è un problema e possiamo usare le pozze quelle per le splash come si chiamano le i barilotti dello slurp quello va bene il resto solo canna da pesca per trovare le armi quindi voce veramente ci serve un assalto un pompa speriamo che siano almeno almeno verdi non dico tanto anche se qualche dubbio però ok alla pesca blu io sono bianca vabbè potenziamola non va bene pesce peperino ma dai ma ma basta non capisco se sono io che devo tirare su o sei te io non capisco ok riprendo il pesce peperino continuiamo a girare la safe porca vacca la safe è proprio dalla porta posta nostra oh oh automatic sniper rifles d'oro ho voluto bellissimo ho voluto fantastico non bellissimo fantastico poi senza munizioni senza materiali vabbè dai la prossima safe ovviamente è dalla porta opposta e c'è gente qua davanti che si spara come i dannati occhio male c'è gente eh vai vieni con me giriamo largo prendiamoci l'acqua e ne muoviamo acqua tutte le cose devi darmi devi darmi il medico potete darmi dei cittadini uh altro coso blu vale cos'è il cecchino è il cecchino meglio che niente lo so che fa schifo però dai non si può però è la più semplice oh il pompa il pompa pompa bianco eh io faccio una piscata al volo e poi basta basta meglio che niente vale meglio la pistola che non averla cos'è che cosa posso niente no mi tengo quell'arma lì eh però la pistola tiene vale perché la usi per spammare la vicino meglio la pistola dici no tieni tutti e due sia la pistola che cosa uh l'assalto vale allora vale io ho la cosa ho fatto prendi questo qua d'oro continua a pescare considera che fra 10 secondi riparte io inizio a fare un po' di mazzo perché se no senza materiale non vale l'altra parte mi stavo sparando vai mi stavo sparando 30 blu sono là quelle bacche uno massacrato vale mi gioco a me si si lo so vale lo so io voglio prendere l'altro 43 blu bianco è il bianco che la vevi il copale fatto uno dammi mazzo dammi mazzo si ha 4 chug splash me ne porto via 4 chug splash prendi questo prendi questo prendi questo e prendi questo buona e ne ha un po' no no c'è qua bella robetta tra l'altro dovevamo prenderlo uno ok vale siamo pure in safe loro sono qua sopra ci stanno ci stanno massacrando aspettiamo che costruiscono un po' un po' grosso mi lasciamo cadere ah vale bisogna sparare a questi a questi tra l'altro questi qua così la cazzo magari trovo qualche mezzo dov'è vabbè scusa qua non volevo non volevo non volevo non volevo stanno sparandomi fatto aspetta eh uno due mi riprendo vai vai mi hai rubato tutti i flopper i flopper io tre ne avevo e uno ok eh sì vieni qua vieni qua vieni qua vieni vieni eh mannaggia eh mannaggia non è facile eh eh lo sarà ma poi uh con un con un assalto con un assalto bianco con un assalto bianco bianco vedete dove vado eh però non sono più sopra no perfetto perfetto aia aia no no io ci credo eh vabbè ragazzi senza armi dovevo andare vabbè addio ragazzi per il pesce ci siamo provato ciao ragazzi ciao 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 ciao